Sono Antonio Discomi, sono candidato alla Camera dei Deputati per il collegio uninominale di Catanzaro-Lamezia e per il collegio proporzionale Calabria Sud da Catanzaro a Reggio. Mi è stato chiesto perché votare il Partito Democratico, ho risposto perché il Partito Democratico non promette miracoli, chiede a ciascuno di noi di alzarsi le maniche e di contribuire alla rinascita di questo Paese, l'ha chiesto anche a me e ho deciso di dire di sì. È facile elencare i problemi, è lo sport più diffuso, trovare le soluzioni è invece necessario e io credo che le soluzioni possono essere trovate quando si ha una grande visione di sistema. Penso al lavoro ad esempio, per creare occupazione non sono sufficienti le leggi, regolamenti e decreti, è necessario avere un grande piano industriale, quel piano industriale che i governi di centrosinistra hanno individuato nel programma impresa 4.0, sostenuto da una serie di incentive di bonus fiscali che sono note a tutti gli imprenditori. Serve anche per la Calabria un grande piano industriale, sfruttando le innovazioni e le possibilità di ricerca e di sviluppo che le nostre università offrono. Bisogna coniugare mondo del lavoro e mondo dell'università, in questo modo la Calabria può avere un futuro positivo.